Musica Musica Siamo, credo, tra le poche o l'unica azienda agricola che produce pasta con il proprio grano. Musica Comunque la collaborazione tra aziende secondo me è importante, molto. Però i marchigiani sono molto chiusi e difficilmente diffidenti del prossimo, questa non cosa per dire. Però, sono andato negli Stati Uniti, molti mi dicevano dove stavano le Marche, mi dicevano al nord di Labruzzo. Io ci sono rimasto un po' male, sinceramente, nel senso che a est della Toscana mi sta bene, ma al nord di Labruzzo mi rompe un po' le scade, naturalmente. Eppure è così. Musica